Un saluto come sempre ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma anche a quelli che ci seguono su GDT Terrestre, sulle 9 e 10 televisioni che ci permettono di arrivare in 5 o 6 regioni del centro sud Italia. Vi ribadisco la novità da due settimane di avere anche attraverso il sistema Smart TV la possibilità di vederci su tutto il territorio nazionale sul canale 268. Bene, puntata numero 22 di Chiacchiere da Basket, il protocalco settimanale di informazione sportiva di Pianeta Basket TV, dedicato come sempre al basket campano, in particolare ma al basket nazionale più in generale. Serie A e tant'altro nel primo segmento, serie B e quant'altro nel secondo segmento. Vado a salutare subito in redazione Andrea Sposito. Ciao Andrea, buonasera. Ciao Paolo, bentornati a tutti. Vado subito a salutare un caro amico, siamo onorati di averlo con noi, un allenatore che ha fatto un po' la storia del basket italiano, ha vinto due Coppa Italia, ha vinto una Supercoppa, migliore allenatore nel duemila, è stato anche vice allenatore nel settore squadre nazionali fino al duemila e ventuno. Un caro amico, a Napoli lo ricorderanno particolarmente perché ha portato la Coppa Italia del duemila e sei e addirittura anche la semifinale Scudetto nell'era maione, lo andiamo a presentare, ripeto, un caro amico, abbiamo veramente gran piacere di averlo con noi, Piero Bucchi. Ciao Piero, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per la presentazione, veramente troppo buono. Eh beh, sei stato un amico, per me sei un caro amico, lo sai insomma, abbiamo lavorato anche insieme, di conseguenza era il minimo insomma, sei poi, devo dire sinceramente un'icona per quanto riguarda il basket italiano, hai vissuto tantissime esperienze, hai allenato a Milano, a Roma, dappertutto insomma, quindi oltre che a Napoli, dove ti ricordano, a Napoli ti ricordano con grande affetto, a chi chiedo chiedo di Piero Bucchi, tutti quanti, sì il grande allenatore, insomma almeno due generazioni ti ricordano con grandissimo affetto, insomma, forse i giovanissimi un po' meno, però insomma perché gli anni passano. È logico, per tutti, anche per me. Allora andiamo subito a parlare del primo argomento. La nazionale, Piero, allora, due belle vittorie in questo cursus verso gli europei del duemila e venticinque, la tua opinione sulla nazionale di Pozzecco, insomma, qualche giocatore che si è messo particolarmente in luce, insomma, le speranze di arrivare sicuramente alla qualificazione degli europei del duemila e venticinque, però di fare un pensierino magari a qualcosa in più, sia nel preolimpico e sia nella stessa parte finale degli europei dell'estate del duemila e venticinque, che si giocheranno in quattro città diverse, una cosa sicuramente molto singolare. A te. Beh, due partite buone, le ho visto ovviamente, ti devo dire che la squadra mi è piaciuta, la squadra ha spirito, la squadra ha voglia di stare insieme, sono ragazzi che interpretano molto bene queste chiamate che vengono per la nazionale, cosa che non era scontata in passato. In passato non tutti andavano volentieri nella nazionale di palacanestro, adesso invece tutti i regolanti vanno molto volentieri, devo dire che c'è stata una buona coesione, una buona difesa, soprattutto nel secondo tempo di ieri sera, però devo dire che sia il partito con la Turchia che quella di ieri sera con l'Ungheria, due buone gare, due risultati importanti per la qualificazione, quindi credo che la strada è sicuramente quella buona, ci sono giovani dietro che spingono e secondo me in questo momento la nazionale ha una buona squadra, ma anche qualche ragazzo che da dietro può subentrare e fare bene. Facciamo qualche nome, dai, i progressi di Procida e Bortolani sono per esempio evidenti, faccio un esempio. Bravissimo. Procida e Bortolani molto bene anche perché sono ragazzi che giocano in Eurolega, Procida all'alba, Bortolani con Milano e si vede che questi ragazzi hanno acquisito una sicurezza e soprattutto un'esperienza che è quella che gli permette di affrontare queste partite con molta più tranquillità. Devo dire che la scelta di Procida di andare all'estero è una scelta che condivido pienamente perché se ci pensi, tutti i ragazzi che negli ultimi anni sono andati fuori, devo dire che il 90% ha fatto bene a cominciare da Fontecchi o da Melli, a Bellinelli non ne parliamo, ma anche lo stesso Procida sta in questo momento. Ah, che è un placatore. Ah, che è un placatore, tutti i ragazzi che hanno effettivamente avuto la forza, la capacità di andare fuori e quindi questi ragazzi secondo me hanno effettivamente beneficiato di questa esperienza all'estero e Procida ne è sicuramente un esempio lampante. La squadra mi è piaciuta molto ieri sera, nel secondo tempo, ma anche con la Turchia un buon atteggiamento, quindi due buoni risultati. Secondo te, un ragazzo che può andare in nazionale, qualche giocatore futuribile, poi logicamente passiamo alla Coppa Italia e al campionato, dai, brevemente per la nazionale che torna un altro giocatore al momento. Sì, ma ti dico dietro, sai, i casarini, tutti questi ragazzi qua sono effettivamente ragazzi che stanno andando molto bene, ce ne sono diversi. Devo dire che fortunatamente dietro c'è qualcosa che si sta muovendo. Insomma, mentre c'era qualche perplessità, qualche anno fa, in questo momento credo che qualche cosa dietro ci sia. Insomma, i ragazzi che sono andati ultimamente, anche perché è meglio andato via, è andato via Flaccadori, Tonut. Gli altri che sono arrivati sono ragazzi che possono dare un contributo. Quindi, ti dico, secondo me c'è una buona generazione, sono buone annate queste. Dai, adesso prossimo appuntamento è a novembre con l'Islanda, ma siamo ormai già con un piede dentro la fase finale degli europei. Speriamo di far bene, speriamo di far bene anche nel preolimpico. Passiamo al capitolo Coppa Italia. Piero, tu hai vissuto l'avventura bellissima nel 2006 a Napoli con la Carpisa. Adesso Napoli ha vissuto un altro miracolo sportivo con questa bella vittoria nella Coppa Italia del 2024, superando Brescia, Reggio Emilia e anche Milano. Insomma, la tua sensazione di una vittoria che ha riportato grandissimo entusiasmo, non solo in città, ma insomma, nella Napoli cestistica in totale. è una vittoria che ci mancava da tanto. Tu hai assaporato quella gioia, insomma, quindi puoi dirci che cosa significa vincere la Coppa Italia, soprattutto da non favoriti poi. Sì, questa è una cosa che è un po' comuna alle due vittorie, sia la vittoria del 2006 che quella di adesso. Entrambe le squadre che avevano fatto bene, che ha fatto bene anche quest'anno, però non eravamo favoriti. Noi battemmo nell'ordine Milano, Treviso e Roma e come quest'anno non eravamo favoriti. Questo sicuramente può avere un po' aiutato la squadra di allora, come la squadra di oggi, però è bello quando parti da underdog, come dico, in America, riuscire a fare risultato. È sempre molto bello. Tra l'altro Napoli è una città che si accende subito, per cui questo risultato porterà ulteriore entusiasmo e pubblico al palazzetto. Quindi devo dire che questo risultato ovviamente fa molto bene alla canestra napoletana, ma anche italiana, perché diversificare un po' dall'egemonia bolognese e milanese non è mai male, un po' come c'è stato l'anno scorso con Brescia, che ha vinto la Coppa Italia. E devo dire che è stato un bel percorso quello che ha fatto Napoli quest'anno, però credo che quest'anno ha raccolto un po' il frutto dei lavori di tutti gli ultimi anni, da quando sono entrati questi imprenditori seri, che hanno effettivamente garantito una continuità, un lavoro, un futuro alla palazzetta napoletana. Per cui, da quando il Presidente Grassi, ma credo che sia giusto nominare anche Mirenghi, che ha fatto un lavoro eccellente negli anni passati, cioè tutti coloro che sono riusciti negli anni a portare Napoli, con questi dirigenti attuali, a dare quella continuità e solidità economica che è fondamentale. Poi è chiaro che Della Salda è venuto qua a Napoli, ha portato la sua esperienza, la sua capacità organizzativa, ha saputo creare e prendere uno staff di livello e quindi ovviamente le cose si sono poi messe in fila nella giusta maniera. Però, ripeto, credo che questi imprenditori, Della Salda, il coach, tutti quanti hanno fatto un lavoro molto buono, portando poi la squadra a vincere questa Coppa in maniera, credo, molto meritata. Allora, parliamo adesso del campionato. Dopo 20 giornate, che analisi puoi fare di questa stagione? Si fa un po' fatica da tutte le parti, insomma. Un campionato molto, molto equilibrato, sia nella parte alta che nella parte bassa. Adesso ci sono stati un po' di cambiamenti nelle squadre, Varese, Pesaro, la stessa Brighi si hanno cercato di apportare... Esatto, ci sono stati di apportare un po' di modifiche. Che pensi di queste 20 giornate e soprattutto delle restanti, delle nove che restano, insomma? Allora, un campionato molto equilibrato, dove in effetti il poter partire con il piede giusto è stato un po' il segreto di alcune squadre, per poter essere, diciamo così, nella parte alta della classifica, vedi Napoli. Chi ha avuto problemi all'inizio, come ha avuto Iassassi, ad esempio, sta pagando questo ritardo, perché ha avuto un bar di infortuni che ci hanno un po' condizionato. Però è un campionato che dimostra che il livello è molto equilibrato, che anche le squadre che fanno le coppie, come Milano e Bologna, possono perdere dovunque, perché effettivamente loro sono molto impegnate ed è molto impegnativo il doppio impegno. E quindi effettivamente per questo motivo Milano e Bologna hanno lasciato un po' di vittoria in giro, per cui questi punti hanno dato grande equilibrio al campionato. Non penso che sia scontata ancora la lotta per retrocedere, perché Brindisi, secondo me, ha adesso una buona squadra, devo dire. Ha perso alcune partite per veramente dettagli alla fine, ma in questo momento la squadra è buona. Non mi sento di darla per spacciata, anche se in fondo la classifica, perché ripeto i giocatori di valore. Quindi è un campionato molto equilibrato, dove sia sotto che sopra veramente basta poco per trovarti nella zona di playoff o per essere nella zona a rischio, per cui molto bello e competitivo per questo. Quindi credo che effettivamente sia una stagione dove l'equilibrio effettivamente sta dominando. Assolutamente. Adesso passiamo un po' lo specifico a Napoli e a Scafati, che sono le due squadre che ci interessano di più. Abbiamo parlato di Napoli e la vittoria di Coppa Italia. Adesso Napoli ha un mese di marzo impegnativo, perché domenica 3 marzo arriva Treviso. Poi c'è la trasferta di Tortona, un'altra squadra che secondo me è in grande crescita. Ha abbandonato le coppe, ha ritrovato un po' di giocatori infortunati ed è una squadra in grande crescita. Poi c'è la partita casalinga con Pistoia, la trasferta di Milano, il remake della finale di Coppa Italia e poi ancora Venezia. Un mese di marzo impegnativo per Napoli. Le prospettive di questa squadra? Tu l'hai incontrata logicamente con la tua Sassari che era piena di infortunati, era sicuramente in ambasce. Che impressione hai avuto dell'interiatore della squadra e questo mese di marzo con le partite con Treviso, Tortona, Pistoia, Milano e Venezia possono dare un indirizzo a Napoli definitivo anche nella classifica? Magari stabilizzarla nella zona play-off. positivo e interessante. Credo che abbia la possibilità di mettere ancora una firma su questo mese perché è una squadra che in questo momento ha sicuramente acquisito maggiore sicurezza con la vittoria e quindi penso che effettivamente possa fare di questo mese di di marzo di poter fare veramente un passo decisivo verso la conquista dei play-off e per avere anche un buon posto nella griglia. Credo che Scafati vada nominata perché in questo momento è dentro i play-off, è una squadra che ha fatto molto bene durante tutta la stagione, ha inserito il giocatore, ha cambiato l'allenatore però ha avuto un rendimento sempre molto buono e costante. Devo dire che il presidente Angobardi sta anche lui garantendo grande continuità a questa sua società da tanti anni e penso che i sacrifici economici che lui ha fatto in tutto questo periodo vada sottolineato e ringraziato per quello che ha fatto perché sono anni che sta investendo nella pallacanestro e questa questa annata secondo me sta gratificando i suoi sforzi che ha fatto in tutto questo periodo. La squadra sta giocando bene, è una buona squadra, buoni giocatori, merita il posto che è in classifica e quindi devo dire che ci sono due squadre campane, napoletane o quasi perché Scafati è vicinissima, che sono nella parte medio-alto della classifica e questo è devo dire un risultato eccellente perché credo che effettivamente due squadre in maniera così decisa e soprattutto così determinata nella zona medio-alto della classifica era un po' che non c'era, questa è una bellissima cosa. Assolutamente, per esempio Scafati avrà un mese di marzo oltrettanto interessante perché riceve Venezia domenica prossima, una bella partita importante, poi va a Brescia, poi due partite in casa con Tortona e Brindisi e poi si trasferisce a Trento, quindi anche per Scafati un mese importante, Scafati che è a ridosso di Napoli in classifica, due squadre che stanno onorando la campagna. Andrea, a te la domanda le domande da Piero sia su Napoli che su Scafati. Sì Paolo, anche perché purtroppo il tempo è tiranno, volevo chiedere al coach, proprio in virtù del discorso che ha fatto nello specifico su Brindisi ma che possiamo allargare in tutta la zona diciamo calda della classifica. Il match con una Treviso rinvigorita Olisevicius è stato un po' quel giocatore che ha cambiato marcia alla Nutribullet. Che squadra troverà Napoli, ovviamente una Napoli sulle ali dell'entusiasmo, troverà l'ottavo sold out consecutivo al palabarbuto Fruit Village Arena, ma che squadra può trovare Napoli contro una Treviso oggettivamente non più in difficoltà come lo è stato nel match da data? Credo che troverà una squadra sicuramente più agguerita, attenta e decisamente più sicura. È una squadra questa che ha qualità ma che ha fatto fatica a trovare continuità di rendimento. Invece la vittoria perentoria che ha fatto a Trento era sopra anche di 20 punti, poi si è fatta recuperare ma comunque ha vinto alla fine. Penso che sia una possibilità per Treviso di aver trovato quella sicurezza, quella tranquillità che poi le è mancate in stagione e quindi verrà una squadra rinfrancata. Però credo che Napoli con la carica che sicuramente avrà dato la coppa a tutta la squadra possa davanti al pubblico fare un'altra buona partita. Delle due vedo favorita Napoli appunto perché in casa davanti al pubblico credo che possa avere tutte le qualità per far solo la partita. Paolo se mi concedi un'altra domanda rapidissima su Scafati. Volevo sapere di Scafati Venezia che è una partita secondo me importantissima per entrambi le squadre. Piero che ne pensi? Beh devo dire che è una bella partita. Credo che sia una partita che Scafati può provare a giocare con la giusta determinazione. Non è facile perché Venezia ha un rosto veramente molto ricco. Però credo che in casa Scafati possa dire la sua. Ha sempre fatto buone partite. Ho fiducia che possa fare una buona gara. Quindi per Venezia credo che non sarà una partita semplice. A te Andrea brevemente dai. Paolo volevo chiedere proprio una battuta telegrafica. Scafati in poco più di un mese ha perso sia Logan che Strelnieks. Due giocatori che ricoprivano quasi lo stesso ruolo da un punto di vista emotivo e di esperienza due giocatori cardine. La volontà da parte della società almeno sino al momento in cui stiamo registrando di non intervenire pesantemente sul mercato in quel ruolo. Preferire una soluzione interna come gentile a portare palla e a creare gioco. E anche una asciugare un po' le rotazioni e responsabilizzare i giocatori. Può essere una chiave vincente in virtù di questo rush finale? Vincente non lo so ma è una scelta molto coraggiosa che però ha una logica di dare fiducia ai ragazzi che sono nel roster adesso. È chiaro che perdi tanto. Perdi l'esperienza di Logan, perdi il talento di Strennes. Quindi effettivamente per i due giocatori di primissima fascia. E quindi non sarà facile per loro farne a meno. Però ripeto è coraggioso la scelta che fanno e non è detto che non sia produttiva. Perché in effetti a volte anche accorciare le rotazioni come tu dicevi può dare una maggiore responsabilità ad ogni giocatore. Quindi potrebbe essere una chiave comunque importante. Comunque allora Napoli Treviso e Scafati Venezia due partite sicuramente da vedere. Io devo ringraziare Piero Bucchi. Piero devo ringraziare perché ti ho inseguito per un po' di tempo ma tu sei sempre un caro amico e mi hai sempre risposto in maniera garbata. È stato un piacere per me. E davvero amico quale sei e quale ti stimo. Insomma io ti auguro di essere sulla panchina quanto prima. Che sia in Italia che sia in Europa tu sei valente ovunque. Lo dico sempre. Ti ringrazio. Perché innanzitutto sei un signore della pallacanestro. Poi il resto lo lasciamo agli altri. E quindi ti auguro presto di sedere sulla panchina e sono sempre il tuo primo tifoso. Lo sai, te l'ho detto e te lo ripeto. Insomma grazie per essere stato con noi. Ti ringrazio. Grazie l'invito. Sì è un momento anche di riposo. Ti ringrazio e ti auguro naturalmente come sempre le migliori cose. In bocca al gruppo. Grazie sempre. Grazie. Grazie. Tra poco la seconda parte. Tra poco la seconda parte della nostra trasmissione con la B nazionale e le altre categorie. Grazie Piero. Seconda parte amici telespettatori del ventiduesimo appuntamento con chiacchiere da basket. Rotogalco settimana di informazione sportiva di pianeta basket tv. Come saprete dedicato in particolare alle formazioni di campagna ma più in generale anche al campionato e campionati nazionali e le formazioni di tutta l'Italia. Ricordo la novità da due settimane abbiamo anche un canale che ci ripete a livello nazionale usando la smart tv che ormai hanno quasi tutti quanti. Vi sintonizzate sul canale 268 e ci potete vedere anche in nazionale. Andiamo quindi a parlare del campionato di serie B nazionale. Brevemente parleremo anche di quello B interregionale perché si è riposato in questo fine settimana però si parte con la seconda fase a partire dal prossimo fine settimana. Oh andiamo innanzitutto ancora a salutare in redazione Andrea Sposico. Ciao Andrea. Ciao Paolo, bentornati. Anche per questa seconda parte sei con noi, ci darai naturalmente notizie importanti. Andiamo a salutare un caro collega, un caro amico di Radio Prima Rete di Caserta. Andiamo quindi a salutare Rosario Pascarella. Ciao Rosario, buonasera. Ciao Paolo, ciao Andrea e grazie per l'invito. No, dobbiamo ringraziare noi te insomma che sei sempre molto puntuale. Poi tu segui particolarmente il campionato di serie B nazionale, in particolare le vicende della Juve Caserta, paper di Juve Caserta, però insomma hai comunque il posto della situazione su tutta la B nazionale, in particolare le quattro squadre campane, quello che ci interessa, insomma. Siamo un po' egoisti, insomma. Fissiamo il nostro obiettivo sulle squadre campane, quindi un esperto come te ci può aiutare a capire che cosa succede in questa serie B nazionale, in particolare in questo girone A. Andiamo però Andrea con i risultati dell'ultimo turno che si è giocato tra sabato e domenica. A tre Andrea è la relativa classifica naturalmente, dai. Sì Paolo, ventiseiesimo turno, orfano ancora del risultato tra Geco, parteneva Sant'Antimo e Libertas Livorno rinviata al prossimo mese di aprile. Ma andiamo con ordine, la Virtus Cassino tra le Muramiche perde per mano di Desio 64-77, partita ad alto punteggio, quella tra Piombino e Crema finita 89-82 per i padri di casa. La PL Livorno batte nettamente Legniano 86-58, Salerno batte Rieti 77-72, nella sfida molto importante per la bassa classifica. Fiorenzuola ha la meglio in casa su Omegna 95-85, così come ha la meglio in casa Piacenza sull'altra Montecatini, la Gemma 83-72, la Herons perde per mano di Avellino in casa al fotofinish 6-5-6-6 e poi Caserta vede spugnare il proprio campo di casa per mano di Brianza 77-87. Palo, la classifica vede la PL Livorno primeggiare a 42 punti, al secondo posto troviamo adesso la Libertas a 38 con la Herons in questo momento al terzo posto. L'altra Montecatini a quota 30 potrebbe, nel caso in cui la Partenope riuscisse ad imporsi nel recupero, essere appaiata appunto a quota 30. Per quanto riguarda tutte le altre abbiamo Avellino a 26 punti frutto di un record in precisa parità, 13 vittorie e 13 sconfitte, Salerno con 13 punti e Caserta ad oggi oggettivamente un po' troppo staccata a quota 8. Allora riassumendo, la Partenope Sant'Antimo deve recuperare il 9 aprile il match interno con Livorno che è una partita molto molto importante per entrambe le squadre e per la classifica di entrambe le squadre. Avellino ha riagguantato la zona playoff in piena bagarra tra tante formazioni, Salerno ha fatto un bel passo in avanti verso i play out, mentre Caserta purtroppo quarta sconfitta consecutiva, la situazione si fa molto molto difficile. Allora con Rosario analizziamo un po' questo campionato, questa classifica per quanto riguarda soprattutto le quattro squadre campane. Il dominio delle Toscane in testa della classifica ormai è palese, ma lo è da mesi ormai. Poi che cosa è spesso questo campionato? Soprattutto le quattro squadre campane, il loro momento. Sant'Antimo molto bene, può addirittura arrivare tra le prime quattro. Direi Avellino se modifica un po' il proprio cammino, lo fa più lineare, quattro vittorie, due sconfitte, un'altra vittoria. Se il roster veramente competitivo, la aiuta a fare bene, direi Avellino anche proiettata in piena zona playoff. Poi Salerno e Caserta, insomma, soffrono Salerno un po' meno, Caserta tanto. A te. Allora, partiamo da Caserta. Sì, partiamo dal fondo. Ci togliamo subito il dente che ci fa male. No, vabbè, poi con Caserta e con te volevo fare un ragionamento approfondito, però se vuoi darti... No, velocissimamente parto dalla situazione di classifica. Caserta, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, non è che ha cambiato o ha invertito il trend, cioè ultima era e ultima è rimasta. Salerno invece ha fatto un passo, diciamo, un po' più avanti rispetto alla possibilità di centrare i play out. Diciamo, Avellino più o meno ha confermato la sua posizione di metà classifica, una classifica molto schiacciata nella parte centrale, quindi vincere o perdere due partiti di fila fa un po' la differenza, mentre Sant'Antimo, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, ha consolidato la sua posizione, ha fatto qualche vittoria fuori casa in più, ha mantenuto, diciamo, la sua imbattibilità interna e quindi ha delle buonissime chance di centrare i play out. È credo anche una buona posizione in griglia diciamo nella parte finale di questa stagione, deve cercare nelle prossime otto partite di mantenere almeno l'imbattibilità interna con questo ruolino di marcia a, non dico matematicamente, ma quasi sicuramente centrare i play out. Esatto, addirittura doveste vincere poi il recupero con Livorno, sarebbe veramente una bella storia, direbbe qualcuno, dai. Allora, Caserta, tu segui Caserta con Radio Prima Rete, Telecronache, insomma, seguite quotidianamente con Radio Cronache e quant'altro. Insomma, che sta succedendo, Rosario? Si era sperato in un trend positivo, la società ha fatto come hai scritto tu giustamente un extra sacrificio fuori budget inserendo anche Cavallero. Che sta succedendo? Insomma, si è tornati a giocare a Caserta, è vero alla buona roti, palestra piccolina, c'è stata anche la buona notizia del palapiccolo che è quasi pronto. Insomma, aggiornaci. Poi il tutto vanificato dai risultati sul parquet che non arrivano, come mai? La cosa che dispiace è proprio questa, cioè nel senso che la società pur commettendo gli errori che ha tranquillamente riconosciuto, ha cercato di porre di medio diverse circostanze ricorrendo al mercato, cambiando allenatore, però gli sforzi della società non si sono trasformati in un miglioramento delle prestazioni della squadra che tranne qualche segnale di miglioramento a cavallo tra la vittoria contro Salerno e la vittoria interna con Montecatini e quell'esterno con Omegna aveva, diciamo, dato speranze soprattutto ai rifusi della Vio Caserta per poi ripiombare di nuovo in quattro sconfitte consecutive che lasciano un po' il segno perché avvengono in una fase decisiva della stagione, cioè questa era la parte di campionato in cui Caserta doveva almeno provare a stare una vittoria avanti a Salerno per poi giocarsi eventualmente tutto nei play-out. Questo non è accaduto, i motivi sono diversi, io credo che poi alla fine si sia aggiunta dei limiti strutturali della squadra che il mercato ha limitato in parte ma non tolto completamente, ma questi limiti tecnici di roster fisici, atletici, si aggiunge un problema mentale perché questa è una squadra che credo adesso incominci a sentire la pressione di dover vincere le partite tutte perché ne mancano otto, ne dovrebbe vincere tre più di Salerno e la cosa comincia a diventare un po' preoccupante. Credo che le sconfitte in casa, quelle con Cassino, con in suola e questa con Lissone, siano un bel macigno che i giocatori si incominciano a sentire sulle proprie spalle. Poi sai quando devi investire un 30, cioè se perdi le partite più o meno sempre nello stesso modo diventa un po' complesso giocare libero di mente. Paradossalmente ha vinto le partite più complicate, cioè quella contro Montecatini, contro Omegna, contro Salerno dove era con le spalle a muro, mentre invece le partite in cui partiva, non dico favorito, ma comunque aveva delle buonissime chance di poterle portare a casa, nelle difficoltà è sprofondata. Poi ovviamente lì emergono i limiti di questa squadra che in parte sono stati mascherati, ma quando tu giochi con un fardello sulle spalle con l'obbligo di vincere emergono più i punti di debolezza che i punti di forza. Assolutamente. Senti, questione impianti, insomma, buonarroti, palapiccolo, come vedi la situazione, l'evoluzione, anche in prospettiva del futuro, perché poi, onestamente, parliamoci chiaramente. Il futuro quale sarà? Questo volevo anche sapere, datemi un po' la tua opinione. Il futuro, quello più probabile, anche se ovviamente tocchiamo ferro, perché mancano ancora otto giornate, però, diciamo, nell'eventualità di una retrocessione, io credo Caserta ripartirà dalla B2, perché da un lato non entrerebbe in una gradatoria per il ripescaggio, in una posizione utile per poter essere ripescato, a meno che non c'entri i play-out. Però, diciamo, retrocedendo da ultima, è quasi ultima nella gradatoria per il ripescaggio. E non credo che ci siano da mente tante squadre che siano tali da determinare una possibilità di ripescaggio. Mentre, per quanto riguarda l'acquisto di titoli, lì bisogna fare una valutazione, perché acquistare titoli o scambiare titoli significa sborsare dei soldi e in più costruire la squadra della Serie B dell'anno prossimo. Quindi, non so se il gioco vale la candela da questo punto di vista. Poi, ovviamente, sono valutazioni che si faranno a bocce ferme nell'eventualità che sia la compagina, la struttura societaria, la vedo un po' complicata acquistare un titolo. Nel caso in cui dovessero entrare altri soci o gruppi importanti che sponsorizzassero la società, allora lì si potrebbe fare un altro tipo di discorso. Però, ragionando adesso, credo ripartirà da un'abitura nel caso di una retrocessione. Per quanto riguarda invece il palapiccolo, credo che i 10... L'impianto ha avuto una sua importanza in questa stagione particolare, no? Cioè, non giocare a Caserta e poi l'evoluzione verso il palapiccolo. Spiegaci un po' tutto. Allora, quello che dici tu è vero e non vuole essere una buona giustificazione, ma giocare in pratica tutto il giro di andata, lontano da Caserta, ma soprattutto non potessi allenare in orari consoni, ha creato dei problemi. In una squadra che già aveva dei problemi diciamo suoi, diciamo, probabilmente li ha amplificati. Credo che qualche partita persa al fotofinish, giocandola a palapiccolo, comunque a buonarroti, probabilmente si sarebbe vinta in un contesto diverso di campionato. Mi riferisco al giro di andata. E credo che a meno per la prima parte Caserta non sia partita a talmi pari con le altre squadre e questo ovviamente l'ha pagata. L'ha pagato a misura maggiore considerando che aveva dei problemi di costruzione di roster. Io credo il peccato originale sia essenzialmente una strutturazione di squadra negli spot 1-2 che non ha adeguato da puntista fisico atletico a questo campionato. In più aveva un solo playmaker di ruolo che poi si è fatto male pure, che era Zamboni. E poi questo si è portato via un po' tutto il resto. Per quanto riguarda il palapiccolo, credo che il 10 marzo dovrebbe essere il famoso giorno in cui Caserta potrà giocare a palapiccolo. Ovviamente resta sempre un punto interrogativo perché l'otto c'è il sopraluogo della commissione che dovrà dare il suo parere favorevole. Ci auguriamo che questo avvenga e che non ci sia un ulteriore slittamento. Anche perché mai Caserta credo abbia quattro partiti da giocare ancora in casa. Speriamo di poterle giocare tutte a palapiccolo. Assolutamente. Andrea, andiamo con il prossimo turno. Poi farai anche tu una domanda a Rosario, magari sulle altre squadre, sulle prospettive di questo turno che si va a giocare nel prossimo fine settimana. A te, Andrea. Sì, Paolo. 27esimo turno che si apre con Desio, Erons, Montecatini, Lissone, Brianza, Bache di Piacenza, Rieti, Cassino, Crema, Fiorenzuola, Omegna, PL, Livorno, Legnano, Sant'Antimo, Libertas, Livorno, Virtus, Arechi, Salerno, Delfe, Savellino, Caserta e Gemma, Montecatini, Piombino. Insomma, allora, lo sa, c'è questo derby. La Delfe deve vincerlo per entrare stabilmente in zona playoff. Caserta ha le ultime carte da giocarsi, come lo vedi e poi come vedi anche le partite delle altre due squadre. Insomma, Sant'Antimo ha una sferta non facile e anche Salerno ha un impegno sicuramente non abbordabile. Una bella tostarella, insomma. Sto fine di settimana per le campanze. Sì, tostarella perché comunque Caserta gioca un derby, i derby sono sempre delle partite che sfuggono a qualsiasi tipo di pronostico. Però carte alla mano, diciamo, Avellino parte favorita e probabilmente questo potrebbe essere un vantaggio per Caserta perché, insomma, potrebbe giocare un po' più libera di mente. Però, insomma, per come sta giocando Avellino ultimamente, è una squadra che ha trovato un po' una sua dimensione, anche se qualche volta fa qualche passo falso tipo la sconfitta in casa con Cassino. Peccato che l'ha fatto già, quindi Caserta non può approfittare di una sottovalutazione della partita. Però si è subito ripresa andando a vincere un campo complicatissimo come quello. Ma questo dimostra la bontà del roster di Avellino, assolutamente. La squadra secondo me tra le prime quattro come roster. Sì, sì, sì. La stessa cosa è per Salerno che va a giocare a Livorno. È una partita un po' complicata, però ha la serenità e la capacità di giocare un po' più serena rispetto a Caserta. Ha un buon margine che si può giocare nelle partite in casa perché se si va a guardare il calendario interno di Salerno è sicuramente più agevole rispetto a Caserta e quindi questo vantaggio se lo giocherà e se lo gestirà con le partite in casa. Dove invece Caserta deve fare l'extra sforzo, cercare di andare a vincere fuori casa qualche partita che è tipo quella di Avellino, che secondo pronostico la vede sfavorita. Per quanto riguarda invece il futuro di Sant'Antimo, io credo che Sant'Antimo... Sant'Antimo se vince questa partita si mette molto bene in classifica. Si mette molto bene, ma io guardo anche oltre. Nel senso che se Sant'Antimo riesce ad avere una buona posizione nei play-off, sia credo la squadra che tutti vorrebbero un po' evitare perché è una squadra difficile da affrontare, soprattutto su una serie a cinque partite perché ha esperienza, ha solidità, ha struttura fisica, ha profondità di roster ed è una squadra che arrivato ai play-off è quella che giocherà sicuramente con la mente più libera, più sgombra rispetto ad altre che probabilmente hanno obiettivi un po' più ambiziosi. Assolutamente. Breve parentesi per quanto riguarda la binte regionale. Inizia la seconda fase nel prossimo fine settimana con tre squadre nella play in gold, cioè sarebbe il girone che dà più adito verso la promozione. Sono tre squadre salernitane tra l'altro perché sono l'Angri, il Power Salerno e la Sala Consilina che quindi sono le top in questo momento per quanto riguarda la binte regionale. Nella play in silver invece ci sono la scandone e il Marigliano che insomma difendono i colori della campagna. Vediamo come va a finire dal prossimo fine settimana. Andrea l'ultima domanda a Rosario e poi concludiamo questa trasmissione. Paolo, io più che una domanda volevo sulla partita di Sant'Antimo, volevo dire che la partita, la trasferta a Legnano è importante molto secondo me anche per gli avversari perché Legnano è un po' una squadra fotocopia di Avellino, un roster molto importante che ha avuto tantissime difficoltà durante la stagione mai espresso il pieno potenziale, però ad oggi con la partenope che ha una partita in meno, ricordiamolo, è a soltanto due punti dai campani che a sua volta hanno due punti di svantaggio dalla Gemma Montegatini quarta, quindi è davvero un croce via per questo finale di stagione. Allora questa è la parte in cui Sant'Antimo cerca di capitalizzare e massimizzare questa fase della stagione perché Gemma, l'ho vista anche contro Caserta, non sta attraversando un buonissimo momento, alterna delle buonissime prestazioni, delle prestazioni molto rivedibili. La stessa cosa a Legnano che io credo sia la vera delusione di questo campionato era partita... E' una squadra che però non ha fatto quel che doveva fare. Però alterna delle prestazioni veramente difficili da interpretare, una squadra che è gioco molto controllata, molto sotto ritmo di sistema, però è proprio questo sistema che è venuto meno, quindi ti dà la possibilità, se rimani attaccato alla partita, ti dà la possibilità di poterla portare a casa. Ovviamente è una partita che se Sant'Antimo riesce a vincerla, veramente come diceva Paolo, può sognare a posizioni ambiziose, anzi io credo non tanto sognare ma aspirare con merito a posizioni importanti alla fine della regola al season. Assolutamente, è bello. Allora concludiamo questa puntata numero 22, devo ringraziare Rosario Pascarella, ringrazio anche in redazione Andrea Esposito e Luigi Cocco che ci permette sempre di arrivare anche alle notizie dal Salernitano molto molto importanti. Si conclude questa trasmissione vi ricordo le nostre pagine Facebook, vi ricordo la nostra web tv sempre da seguire, iscrivetevi al canale che sta crescendo in maniera esponenziale e poi ricordo anche le nuove 10 televisioni che ci promoziona sul digitale terrestre e anche il canale nazionale che ci promoziona in tutta Italia. Appuntamento alla prossima settimana, grazie Rosario, grazie Andrea, appuntamento quindi alla puntata numero 23, la prossima di Chiacchiere da Basket. Da parte di Paolo Amalfi è tutto e come sempre dico ormai da 40 anni, buon basket a tutti e buona serata. Ciao, buona serata.